Una donna è stata investita da un'auto intorno alle 9 di questa mattina a Venafro, lungo via Campania. Sul posto i sanitari del 118 di Venafro, che hanno trasportato la signora presso l'ospedale veneziale di Sernia. Le sue condizioni non sono gravi. Alla guida dell'auto una ragazza che si è subito fermata a prestare soccorso. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. E il secondo investimento lungo via Campania nel giro di poche settimane, per fortuna entrambi senza gravi conseguenze. A Ferrazzano invece una squadra dei vigili del fuoco di Campobasso, è intervenuta sulla strada provinciale 57 per un'auto ribaltata. La conducente è stata estratta dall'abitacolo e affidata al personale del 118 per essere trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto era presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso.